Mi chiamo Denis Brioschi, ho 22 anni e vengo da Nova Milanese. Ciao amici, eccomi qua, tutte le cose che ho fatto nella mia vita. Le mie origini sono brasiliane, anche se in Italia sarà la mia casa per sempre, perché comunque la mia famiglia è italiana. Questi sono i miei genitori, mio papà a destra e mia mamma a sinistra. Io sono arrivato all'età di tre anni in Italia, mi hanno adottato e fin da quel primo momento ho capito quanto fossi stato fortunato. Mi piace ballare. Da tanti anni che frequento una scuola, facciamo un musical, l'insegnante della scuola dove vado non può fare a meno di me. Finire in una caserma è un po' rinchiudermi, però non ho dei miei motti, mai arrendersi. Grazie. Grazie a tutti